Ho chiesto alla società, che è stata come al solito, è normale che sia così, abbiamo un rapporto particolare, io, Enzo, Peppe, e nel momento in cui gli ho chiesto di fare una conferenza stampa hanno dato la loro massima disponibilità, mi hanno messo a disposizione questa che era la struttura dove ho vissuto un anno e mezzo meravigliosamente. L'ho fatta semplicemente per due motivi, la prima perché non l'ho fatta quando me ne sono andato, forse anche sbagliando, o forse anche no, ma in questa piccola conferenza stampa vi spiegherò il perché. La seconda, ed è la cosa che poi alla fine mi fa più male, più dispiacere, è che le informazioni che avete ricevuto in questi giorni sono, non tutte, ma tante sono false, tendenziose, sbagliate. E quindi è giusto che io racconti... Questa volta dico, di solito uso sempre la mia verità, questa volta la verità. La prima cosa, quasi cronologicamente, è che non sono scappato da questa città. Cioè dopo aver perso Gara 3, non sono assolutamente fuggito da Capodorlando e la mia fidanzata è rimasta qui. E questo sta a significare che io ero consapevole e certo e contento di tornarci. Anche non da... No, 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 per piacere. Anche... Anche non da capo allenatore, sarei tornato comunque. Semplicemente dovevo andare a forma intera. David Sussi lo sa, perché dovevo risolvere delle mie situazioni private. Non ho fatto la conferenza stampa il giorno dopo, perché pur consapevole di dove sarei affinito, non potevo dirlo. E questo mi metteva in grossa difficoltà. Perché quello che poi vi racconterò alla fine è forse una delle parti più importanti. Per quanto riguarda il fatto che io possa prendere in considerazione di portare i giocatori che ho avuto io quest'anno a Capodorlando a Varese, è totalmente vero. Perché per rapporto che ho installato io con i miei giocatori, li porterei ovunque. C'è una piccola, una piccola difficoltà. che mi mette nelle condizioni di non fare tutto ciò. Che io non porterei mai via un giocatore da Capodorlando. Se non che lui sia il primo a manifestare la volontà di andarsene. Io so per filo e per segno che cosa pensano i giocatori, che cosa pensa Enzo Sindoni e soprattutto, perché lo sento praticamente ogni giorno, so esattamente cosa pensa dei giocatori Peppe Sindoni. Chi vuole firmare, chi non vuole firmare, chi vuole che rimanga, chi non vuole che rimanga. Io, se dovessi mai prendere un giocatore dell'Orlandina, lo prenderò solo ed esclusivamente nel momento in cui la società mi dà il via libera. Non abbiamo mai preso in considerazione a Varese di telefonare o di chiamare nessun tipo di giocatore che ha giocato nella stagione 2013-2014 a Capodorlando. Il prossimo anno, rispetto a quello che avrei guadagnato qua, vado a guadagnare 5.000 euro in meno. Quindi non vado a Varese per i soldi. Non ho mai avuto nel mio contratto, anche perché non esiste, perché il mio contratto con Enzo Sindoni era sulla parola, e infatti prima di andarmene, cosa che avrei potuto fare, tra virgolette, liberamente, sono andato da Enzo Sindoni e gli ho chiesto Enzo mi lasci andare a Varese, proprio perché ho incontrato, anche se non era firmato, per me era ancora più che scritto su un foglio di carta. Quindi non vado a Varese perché mi arricchisco, perché Varese mi ha già arricchito anni fa. Punto che mi ha mandato letteralmente in bestia. E c'è stato un qui pro quo con la società. Nel momento in cui io me ne sono andato, davo palesemente per scontato, visto e considerato, testimoni, David, che il camp era una creatura a cui tenevo particolarmente, non ho mai pensato di non parteciparvi. mai, mai, con tutti i problemi del caso, del tipo viaggi, devo fare altre cose, mai preso in considerazione di non partecipare a un camp dove i bimbi avevano sottoscritto un mini contratto per passare un po' di tempo con me. Quindi toglietevelo dalla testa. C'è stato un qui pro quo con la società, la società pensava che io, firmando per un'altra società, pare stato più impegnato. Ma non è assolutamente così. E la società poi, dopo di me, c'è qui Seba e Lardi, è chiaramente, come sempre, collaborativa nei miei confronti. Ci sono tante altre cose che io potrei raccontare, ma queste sono le cose che mi hanno dato più fastidio. Fastidio nel senso che, secondo me, ogni cittadino di Capodornando poi dovrà essere libero, libero di pensare se ho fatto bene, se ho fatto male, se mi sono comportato bene o se mi sono comportato male o bene. E rispetterò qualsiasi tipo di decisione di qualsiasi cittadino di Capodornando. Ma la cosa che mi premeva che avesse le informazioni giuste. Durante l'anno ho dichiarato cose, durante quest'anno e mezzo, ho dichiarato cose forti. sbagliando, sbagliando forse, non pensando a quello che potrebbe essere stato magari il mio futuro, anche prossimo. Ma in modo ipocrito è falso. Sempre perché in quel momento mi andava di dirlo perché lo pensavo. Perché partivo dal presupposto e parto sempre dal presupposto che il legame che ho avuto io con questo posto era vero e sincero da entrambe le parti. È un rapporto che può durare un giorno, un anno o una vita. Purtroppo nella nostra professione succede anche che in una situazione idiliaca come questa le strade si possono dividere. E le strade si sono divise per una mia responsabilità. ho deciso io che le strade si dividessero. Il 29 gennaio, il 28 gennaio ho ricevuto una telefonata da Cecco Vescovi che è un mio ex compagno di squadra con cui ho una confidenza totale e mi disse Gianmarco sappi che io voglio esattamente un annatore come te per il prossimo anno a Varese. Sei il primo nella lista e avrai tutta l'annata da qui alla fine dell'anno per decidere se venire a Varese o no. Sappi che io ti aspetto. io gli risposi Cecco mi fa piacere che tu mi abbia chiamato io in questo momento sto lavorando per l'Olandina e da qua alla fine dell'anno io non posso darti una risposta. Il 29 gennaio siamo andati al circoletto alla cena sociale la prima cosa che ho fatto ho radunato Enzo Sindoni Peppe Sindoni e Melluccio Perrone e gli ho raccontato quello che era successo. Mai nella storia dello sport mai nella storia dello sport un allenatore secondo me precedentemente ha fatto una cosa del genere. per condividere che cosa la nostra crescita perché il fatto che Varese prendesse in considerazione uno sbrindellato come me voleva dire che Enzo Sindoni aveva fatto la aveva preso la decisione del secolo e che tutta questa società stava rimando tutti insieme dalla parte giusta. concludo 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 che alla fine alla fine della stagione mio malgrado perché chiaramente voi non potete neanche immaginare quanto sia stato difficile per me lasciare questo posto ho deciso di tornare in un posto dove ho giocato otto anni dove ho vinto l'unico scudetto della mia carriera e che non metterò mai in comparazione con Capodorlando perché ho ricevuto tanto da una parte quanto dall'altra oggi purtroppo e lo dico qui a Capodorlando purtroppo ho preso la scelta di tornare in quel posto lì dove ho vissuto ripeto otto anni come mi auguro già oggi che fra dodici anni che è lo stesso tempo che è passato da quando sono andato via da Varesla quando ci sono tornato io un giorno tornerò qui a Capodorlando l'ultima cosa che dico e poi ci rivedremo perché io continuerò a vivere e a passare del tempo a Capodorlando sono un uomo di sport so come funzionano le cose ma sono stato anche un dilettante sono stato un tifoso sono stato una persona assolutamente normale capisco e rispetto il dolore di tutte le persone di Capodorlando che Scusatevi Non permetterò a nessuno Non permetterò a nessuno Di cancellare tutto quello Che abbiamo passato insieme